A Giulianova è stato un pomeriggio vissuto sul filo del rasoio con tre candidati sindaci che si sono inseguiti, sorpassati, fino al verdetto finale. Dunque i cittadini del Comune Costiero dovranno nuovamente tornare alle urne il prossimo 9 di giugno per scegliere il ballottaggio tra il polo civico di Ivan Costantini, che ha ricevuto 4.050 preferenze, che rappresentano il 30,98%, e il centrodestra dei partiti, che è rappresentato dal candidato della Lega Pietro Tribuiani, che con 3.783 preferenze ha raggiunto il 28,94%. E' questo l'esito dell'elezione amministrativa a Giulianova, rimasto per diverse ore in bilico, con Franco Orboretti, il cittadino governante, che sembrava poter insidiare un posto al ballottaggio, che alla fine ha ricevuto 3.376 preferenze, dunque il 25,83%. Più staccati in Mauro di Crescenzo, del Movimento 5 Stelle, con il 7,28%, e Gabriele Filipponi del Partito Democratico, con il 6,97%. Si dovrà dunque ricorrere al secondo turno per eleggere il nuovo sindaco di Giulianova, con i due candidati che dovranno convincere l'elettorato di centro-sinistra del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che per la nuova composizione del Consiglio Comunale saranno eletti 16 consiglieri, di cui 10 andranno a chi vincere il ballottaggio, mentre 6 all'opposizione, che verranno divisi in base alle preferenze ricevute. È un risultato straordinario, oggi analizzando meglio i numeri è veramente un risultato incredibile, ringrazio tutti i cittadini che hanno voluto accordarci la loro fiducia. Adesso siamo al lavoro, come abbiamo fatto per 5 anni, non abbiamo vinto ancora nulla, siamo entrati nella seconda fase della competizione elettorale, e quindi adesso bisogna realmente incarnare quel cambiamento che portiamo avanti da tanto tempo, perché noi non vediamo l'ora di salire in comune per iniziare ad amministrare meglio questa città. L'onore delle armi va ai tre candidati sindaci che non sono entrati nella seconda fase, che ringrazio perché tutto sommato hanno fatto una campagna dai toni pagati, parlando solo dei temi, e quindi si riparte da zero. Il messaggio è che non abbiamo vinto nulla, il vero cambiamento passa per la data del 9, sono convinto che i cittadini sanno perfettamente chi siamo, sanno perfettamente quello che possiamo dare, e sanno che facciamo politica solo e esclusivamente per il bene della nostra città, trasmettendo qualcosa. Noi abbiamo trasmesso non solo il programma, ma abbiamo trasmesso veramente qualche emozione nella nostra città e vogliamo continuare a farlo. Siamo certi che tra 5 anni riconsegneremo una città diversa. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo ottenuto un ottimo risultato, considerando la brevità della nostra campagna elettorale, quindi è da due mesi a questa parte che stiamo lavorando con i nostri candidati, quindi abbiamo fatto un paio di liste all'ultimo momento, un paio di partiti commissariati, quindi noi abbiamo ottenuto un risultato fantastico. Adesso siamo in grado di esprimere tutta la nostra forza, grazie anche al collegamento con la Regione. Noi dalla nostra parte abbiamo i partiti politici, abbiamo un'organizzazione, abbiamo una struttura. Dall'altra parte bisogna chiedersi chi c'è dietro a Costantini. Ai cittadini di Giulianovo voglio dare questo messaggio di essere fiduciosi, di cercare di andare oltre quello che è l'apparenza, di vedere nei programmi e nelle persone e quindi nella loro credibilità. Perché noi, nella coalizione del centro-destra, stiamo facendo di tutto e faremo di tutto in questi giorni per far passare il messaggio che Giulianova può finalmente uscire da quell'isolamento politico, sociale ed economico in cui è stata relegata negli ultimi dieci anni, per cui siamo veramente l'unica alternativa seria e concreta per uno sviluppo sano e duraturo della città.